amici siamo ancora con voi la giornata è stupenda la temperatura di 36 gradi e il mare è calmo non vi viene la voglia di andare a fare un bel tuffo eh ma prima che corriate verso le acque azzurre dell'atlantico voglio ricordarvi che questa è la voce di radio son che trasmette sui 104 della modulazione di frequenza giorno fortunato questo per i nati nello scorpione lavoro affari amore e salute tutto a gonfie vele che pacchia ragazzi un po meno bene per il sagittario ma passerà coraggio amici passerà una buona notizia per i bongustai da due giorni è cominciata la pesca dei locos gli eccezionali molluschi dal sapore squisito e dal costo esorbitante che proliferano nei nostri mati la pesca si concluderà fra due settimane e si effettua sotto il controllo della guardia costiera tonnellate di locos sono già state prenotate dal jet 7 internazionale e finiranno sulle tavole di tutto il mondo saranno centinaia di migliaia di dollari per il nostro paese per noi poveri consumatori locali solo pochissimi esemplari da pagare a peso d'oro e solo per qualche giorno pazienza amici e se vi potete permettere un paio di locos buon appetito vediamo se prendi questa eh dai tira no era basta vai valla prende dai migà miguel corre miguel MIGUEL! Llevo il sabore di Cuba! Mamma io voglio sapere di dove sono i cantanti che lo sento davanti e lo voglio conoscere con sus trovas fascinantes che me las voglio prendere che dove sei seranno di La Habana seranno di Santiago tierra soberana sono della loma e cantano i llano e abilas come loro sono della loma compagni e cantano in il nazionale e cantano in il nazionale Sabor Giulia Vittorio! Mamma io canta in il nazionale mamma io sono della loma mamma io canta in il nazionale sono della loma e cantano in il nazionale sono della loma e cantano in il nazionale sono della loma sono della loma e cantano in il nazionale una bella e Não so Basta con quelle scemenze, dammi una mano. Per te saranno scemenze, ma non per me. Voglio partecipare al concorso, non ci vedo niente di male. Non ti farebbe piacere che la tua ragazza apparisse sulle copertine più importanti? Ti fai solo delle illusioni. La verità è che tu sei geloso. No, non sono geloso. È che la cosa non mi piace. Non è così che si trova lavoro, nuda sotto gli occhi di tutti. A me non importa. Anzi, mi piacerebbe. E a me no. Lo sai perché succede tutto questo? Grazie. Grazie.